Stamane davanti Palazzo delle Aquile a Palermo un sit-in promosso dal Comitato Esistono i Diritti affinché il sindaco Roberto Lagalla trascriva i figli e le figlie delle coppie omogenitoriali. Durante la manifestazione sono state consegnate al sindaco mille cartoline redatte da personalità del mondo ecclesiastico, della politica, della cultura, dell'avvocatura, dello spettacolo a sostegno dell'appello lanciato alla piazza. È una lettera in cui noi chiediamo al sindaco di trascrivere i figli delle famiglie omogenitoriali che oggi sono impedita questa operazione da una circolare del Ministero degli Interni. Ma in realtà noi chiediamo al sindaco di intervenire nel dibattito nazionale chiedendo e quindi auspicando che il Consiglio Comunale di Palermo chieda una legge che regolamenti la materia perché non è possibile che esistano famiglie e figli di serie B solo perché la coppia dei genitori sono dello stesso sesso.